Certi momenti nella vita sono chiari, precisi e netti, come lame affilate. E proprio in quegli istanti, senza preavvisi, le persone vi cadono dal cuore, svanite. Può sembrare strano, forse impossibile, che qualcuno che amavi possa scomparire. Ma dal cuore cadono, è un fatto indiscutibile, perdono il posto che prima era un rifugio sicuro. Non le spingo via, non le allontano con forza, semplicemente cadono come foglie d'autunno. Non è una scelta conscia, non è una rotta, ma una legge del cuore che segue il suo corso. Non è vero che per sempre restano, solo chi gli ha fatto del bene rimane. Quelle che mi feriscono, che mi fanno a pezzi, che non sanno essere buone, gentili. Alla lunga perdono il loro prezioso posto, e dal cuore cadono senza più. Forse ci metto più tempo, di quanto dovrei, a capire che non c'è più speranza. Ma sono una che mille possibilità dà, che ci prova, che ci crede, che spera. Ogni volga ci credo, fino all'ultimo. Cerco il buono, il positivo, il bello. Ma poi alcune cadono, e so che è definitivo. Nel mio cuore non torneranno più, mai più. È una triste consapevolezza, un dolore sordo, sapere che qualcuno è caduto, perso. Ma è così che il cuore si protegge e si difende, da chi non sa amare, da chi non comprende. Così continuo a camminare, con il cuore a metà, sapendo che solo chi merita resta. E chi mi ha ferito, chi mi ha spezzato, non troverà mai più la porta aperta. Grazie a tutti.